Le vicende occorsi a Sarno, dalla deposizione di Mussolini fino all'armistizio e alla liberazione della cittadina e dell'intera regione Campania, sono raccontate con immagini che narrano uno spaccato di vita fatto di storia collettiva e di storie individuali. Inaugurata la mostra curata dalla sezione di Sarno dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con la collaborazione di Rinascere, Associazione delle Vittime delle Frane del 5 maggio 1998 e il patrocinio del Comune Sarnese. Per le celebrazioni del 25 aprile i pannelli sono stati esposti a Piazza Marconi, nei pressi delle aiuole che verranno dedicate ai partigiani sarnesi della Resistenza. Poi la mostra è stata spostata nell'androne del Palazzo Municipale, dove sosterà alcuni giorni prima di essere portata in torre nelle scuole cittadine. Divisa in 12 pannelli, presenta le vicende occorse a Sarno, dalla deposizione di Mussolini il 25 luglio 1943 fino all'armistizio dell'8 settembre e alla liberazione di Sarno e dell'intera regione Campania. I testi e le immagini raccontano dei combattimenti tra le truppe nazifasciste e gli eserciti alleati, cui diedero manforte numerosi gruppi di partigiani di Sarno e delle aree limitrofe, gruppi che combatterono sulle montagne alle spalle della città. Sarno, in quei mesi cruciali, era diventata roccaforte e contesa tra l'avanzata dell'esercito anglo-americano e la ritirata dei tedeschi. Nella seconda parte della mostra si ricordano i partigiani di origine sarnese che in Italia e all'estero hanno combattuto per la liberazione dell'Europa dall'intera occupazione nazifascista. Partigiani combattenti che sono rimasti feriti, sono stati deportati e poi morti nei campi di concentramento nazisti. Partigiani che si sono distinti cadendo in azioni di guerra al fianco degli alleati contro l'esercito della Repubblica Sociale Italiana, il regime collaborazionista della Germania nazista. La sezione ricorda anche i partigiani sarnesi che hanno combattuto all'estero in Albania, nella ex Jugoslavia e in Grecia, tra cui diversi caduti, feriti o prigionieri. Senza memoria non c'è futuro. Anche a Sarno ha risuonato il monito del presidente Mattarella e Lampi ha voluto onorare la memoria di chi ha combattuto per dare con il suo sacrificio un futuro degno alla nostra nazione.